Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del Fatto del Giorno. Oggi parliamo della prima legge di bilancio del governo Draghi, una manovra da 25 miliardi focalizzata sulla crescita del PIL e sulla protezione sociale, discussa in Consiglio dei Ministri che dovrebbe raggiungere in giornata Bruxelles. Ma vediamo nel dettaglio i punti che la caratterizzano e quali sono le posizioni dei partiti politici. Tra gli interventi principali da eseguire, il nodo delle pensioni, con l'ipotesi di una fase transitoria di due anni per il superamento di quota 100 con quota 102. Un'idea che non sembra convincere la Lega, che chiede maggiore flessibilità, ma nemmeno il centro-sinistra, che vorrebbe un meccanismo più selettivo di sostegno a chi svolga lavori usuranti e alle donne. Anche Italia Viva chiede che non si spendano così tanti soldi per le pensioni. Il reddito di cittadinanza è un altro tema che verrà trattato nella legge di bilancio, dovrebbe essere cambiato per migliorarne l'efficacia. Se Lega e Italia Viva vorrebbero del tutto eliminare il sussidio, PD e Movimento 5 Stelle lo difendono. Anche Draghi ne riconosce la validità, ma è consapevole anche dei suoi limiti. La riforma prevede quindi un accesso più selettivo e un taglio del sussidio già al primo rifiuto di un'offerta di lavoro. Al centro della riforma fiscale troviamo la riduzione del cuneo fiscale, che sarebbe la differenza tra il lordo e il netto negli stipendi, e una riduzione delle tasse. Per questa operazione potrebbero essere riservati fino a 8-9 miliardi. Se sulla riforma fiscale è possibile notare una convergenza di posizioni delle fazioni politiche, nelle altre partite abbiamo visto che lo scenario è del tutto diverso. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Fatto del Giorno.